Di chi si tratta? A chi mi sto riferendo con il titolo l'eroe segreto di Vrestalmania 37? Beh ovviamente ad un atleta la cui prestazione passerà quasi sicuramente inosservata, ma che invece è stato un top nel ruolo assegnatogli. E allora questo premio virtuale va tutto a John Morrison, che si è messo totalmente al servizio di Bad Bunny, accettando una posizione da gregario silenzioso ma fondamentale per la buona riuscita del match che lo ha coinvolto. Se oggi tutti parlano della Canadian Destroyer di Bad Bunny o delle sue azioni spericolate, beh buona parte del merito, forse addirittura la maggior parte del merito, va allo sciamano della sensualità. I veterani come Morrison, capaci di mettersi l'ombra addosso per far splendere il sole sugli altri, per me sono eccezionali, sono strabilianti, anche se poi nessuno o quasi li mette in copertina. Beh poco male, stavolta lo abbiamo fatto noi.